Dai, vi racconto qualche altra storia estrema presa dal libro di Todd Gordon che sto leggendo in questi giorni. Voi però lasciate già subito un like e ricordatevi di iniziare i vostri acquisti su Amazon dalla mia vetrina. È un click passivo e trovate il link nella descrizione di tutti i miei video. Allora, partiamo da un combattente che nella prima metà degli anni 90 compariva spesso nelle riviste di settore americane. Si tratta del Ribelle del Rock, The Rockin' Rebel. Eccolo qua. Questo atleta è un fedelissimo della ECW e lavora per la federazione già da prima che si chiamasse così. E un giorno va a protestare con la dirigenza, peste e pugni, appellandosi proprio a questo passato. E dicendo sostanzialmente sono l'unico della covata iniziale di questo progetto al quale non avete mai fatto conquistare una sola cintura. Todd Gordon ci pensa, il cervello dà ragione al combattente, e allora come risarcimento gli dice che vincerà la Battle Royale prevista durante la card. Un match speciale, estremamente importante, perché assegna il ruolo di primo sfidante al titolo massimo. E cosa fa il wrestler? Nel giro di 15 minuti lo va a spifferare a chi gli sta attorno. Lo sa la sua fidanzata, ad esempio, che è tra il pubblico e potrebbe condividere l'informazione. Ma usa questa promessa anche per fare lo splendido con altre tizie che si vuole sdraiare, con le quali spera di avere delle scappatelle furtive. Solo che questa cosa qua viene notata. E allora Gordon e Paul Heyman istruiscono tutti gli altri partecipanti alla Battle Royale e appena suona il gong, ecco l'avanzata dei Lanzi Kennecchi, la cavalcata delle Valkyrie. Tutti, tutti coalizzati ad eliminare il ribelle del Rock. Con quest'ultimo disperato, quasi alle lacrime, perché convinto sino all'ultimo del suo successo. Insomma, se tradisci il sacro vincolo del silenzio, sui finali dei match di strada non ne fai. E di storie su questo sentiero ce ne sarebbero tante da raccontare. E magari in futuro lo farò. Peraltro la vita di questo atleta finisce in modo tragico nel 2018, quando per motivi ignoti uccide la moglie sparandole e poi si suicida. Voltando pagina, cercate di immaginare il contesto. State lavorando bene sul territorio, però continuano ad arrivare i controlli dei pompieri, che devono verificare che non hai superato la capienza massima permessa dall'arena. Poi sopraggiungono altre autorità per verificare i documenti necessari per organizzare le kermesse. E sono tanti, io l'ho fatto il promoter, lo sapete. Le attestazioni del comune, almeno in Italia, il ring, la security, i soccorsi e via dicendo. E poi alcuni palazzetti ricevono delle VHS, il formato principale allora era quello, con i tuoi match più violenti, quali dove il sangue gronda a cascate. E i loro direttori preoccupati decidono di non affittarti più quel posto. E Todd Gordon non sa più a che santo votarsi. Si sente circondato, capisce che c'è qualcuno che gli rema contro. E una sera il suo nome viene a galla, a Philadelphia, quando la security sgama Dennis Coralluzzo e un suo complice a tagliare le gomme delle auto dei fan che sono andati all'evento della ECW, che allora stava per Eastern Championship Wrestling. Ma chi è questo tipo che state vedendo in foto? Si tratta di un promoter del New Jersey, quindi vicino al territorio geografico in cui opera Todd Gordon. Ed è un volto importante del consorzio NWA. L'NWA è la grande sigla che un tempo dominava la scena americana, raggruppando sotto di sé centinaia di realtà locali, i cosiddetti territori. Ogni territorio aveva il suo campione locale, tutti ne riconoscevano uno nazionale, il campione NWA. Cioè, capite la concorrenza a quel tempo, sino a che punto poteva spingersi? E anche qua ce ne sarebbero da dire, ma tornando alla nostra vicenda, Gordon non denuncia Coralluzzo alle autorità. Però avrà modo di vendicarsi quando la NWA sceglierà proprio la ECW come compagnia ospitante per un torneo che riassegna il suo titolo massimo. Una Kermess vinta da Shane Douglas che rinuncerà nel ring alla corona, dichiarando la NWA una sigla morta e auto-incoronandosi primo campione della Extreme Championship Wrestling nell'esatto momento in cui viene cambiata per sempre la denominazione della federazione. Chiariamo bene le cose. La NWA, Coralluzzo che la rappresentava, e tutti gli altri dirigenti erano all'oscuro di questo piano. Fu una power play, una mossa azzardata ideata da Gordon Heyman con l'appoggio di Shane Douglas che allora a quel tempo diventa uno spartiacque importante all'interno della storia, della disciplina. E, guardando la vicenda a ritroso, lo è ancora oggi. La terza e ultima storia che vi racconto ha a che fare col licenziamento dei public enemy dalla WCW, anzi, in realtà, il quasi licenziamento, perché riuscirono, muovendo un po' le cose, riuscirono a farla franca, ma per il rotto della cuffia. Per chi non li conoscesse, si tratta di una squadra composta da Rocco Rock e Johnny Grunge, famosa per aver introdotto l'uso massiccio dei tavoli nei loro match, con spot e situazioni poi copiati e migliorati un po' da tutti. Però l'idea del tavolo, l'innovazione, il tavolo popolare, il We Want Table, praticamente nasce da loro. Altri se ne impadroniscono, diventano più identitari col tavolo, però il seme è qui. La WCW, la World Championship Wrestling, li nota e li mette sotto contratto, ma come vi ho detto, i due rischiano subito il licenziamento, perché Grunge praticamente alla prima sessione di registrazioni televisive a cui ha chiamato a partecipare, cosa fa? Ruba il camion della produzione. Quello della regia, praticamente. Per andare a comprare quelle sostanze illegali di cui ha strettamente bisogno. Quindi, mettendo a rischio l'intero show, che fortunatamente non è in diretta, ma è registrato. e quando il capo Booker, Dusty Rhodes, il papà di Cody, viene informato dell'accaduto, organizza il giorno dopo un finto arresto ai danni del wrestler, grazie ad un amico attore che si traveste da poliziotto. una punizione memorabile che tuttavia non cancella le brutte abitudini ormai consolidate del combattente. Grunge, vicino di casa tra l'altro di Chris Benoit, muore un anno dopo il suo collega nel 2006 per arresto cardiaco dovuto a problemi respiratori causati principalmente dall'obesità. E questi sono i piccoli frammenti di wrestling che oggi mi andava di raccontarvi. Se vi sono piaciuti e se ne volete altri lasciate un like al video e seguite il canale se già non lo state facendo. E ora dita roventi aspetto le vostre opinioni qui sotto nello spazio dei commenti. grazie a tutti.